Un bilancio più che positivo, quello tracciato dal questore dell'Aquila Enrico De Simone in occasione del 172esimo anniversario della Polizia di Stato, celebrato anche nel capoluogo all'Aquila, c'è stata una diminuzione del 12% dei reati, a fronte anche di un incremento nel territorio, del contrasto alla criminalità diffusa, alle baby gang, a quelli che sono comportamenti che non costituiscono reato ma che comportano comunque un disordine sociale. Un altro dato importante è anche la velocità con la quale la Polizia Aquilana risolve i casi. Vedi l'omicidio in centro storico con il quale la mobile ha dato subito un volto agli assassini. Il questore ha ricordato che in quell'occasione sono stati bravissimi i ragazzi delle volanti che hanno individuato subito i malviventi che conoscevano già grazie proprio al capillare controllo e alla conoscenza del contesto. Stare in strada e verificare i movimenti delle persone torna sempre utile, ha detto De Simone. È stata una cerimonia molto partecipata alla quale hanno preso parte molte istituzioni e nel corso della quale sono stati premiati quei poliziotti che si sono particolarmente distinti nell'attività quotidiana a servizio della gente. Esserci sempre è il motto scelto per questa festa e le forze dell'ordine ci sono sempre a sostegno della comunità.